ringrazio il dottor Fossum per la presenza, ringrazio Francesca per l'assistenza alla traduzione e conduciamo questa piccola intervista, farò tre domande al dottor Fossum grazie per questa chiacchierata adesso che faremo insieme e spero di riuscire a rispondere alle domande nel migliore dei modi sicuramente, allora ecco la prima spiega brevemente cos'è l'approccio minimalista in osteopatia e quali sono le sue origini ok, so the first question is, could you briefly explain in osteopathy what we mean by minimalist approach and what are its origins? so the minimalist approach in osteopathy has a very long history and it probably goes all the way back to the beginning of the profession where the early osteopaths were interested in understanding the possible causes of the patient's symptoms from a osteopathic point of view so they were basically interested in doing a thorough assessment and examination of the patient in multiple positions il loro interesse era dunque quello di fare una valutazione molto dettagliata del paziente in diverse posizioni e l'obiettivo era quello di evidenziare quelle aree del corpo del paziente che mostravano degli aspetti significativi, degli aspetti chiave per quelli che erano i problemi del paziente and of course then these areas identified through the assessment would be correlated with each other which of course will make up what we today call the lesion chain Dopodiché queste aree evidenziate all'interno del paziente venivano correlate tra di loro andando a creare quello che noi oggi chiamiamo la catena lesionale and the treatment most important dysfunctions first e il trattamento andava a si impostava in ordine andando a trattare le disfunzioni più importanti per prima questo approccio spesso veniva dato un soprannome, un nomignolo che era trovalo, aggiustalo e lascialo stare il che non vuol dire che il tempo insieme al paziente ma si passa il 75-80% del tempo a disposizione con il paziente per la fase di valutazione per fare la valutazione globale del paziente e capire che cosa sta succedendo and then you treat your significant findings with the objective of improving the functional efficiency and self-efficacy of the patient and the body Dopodiché si vanno a trattare le disfunzioni significative avendo l'obiettivo di aumentare l'efficienza, l'efficacia della funzione del paziente e la sua capacità di autoregolazione è dunque un approccio che trae anche vantaggio dalla capacità che ha il corpo del paziente di autoregolarsi e trovare la funzionalità efficace e il lavoro dell'osteopata all'interno di questo approccio è di facilitare questa capacità del paziente è anche un approccio che possiamo nominare anche un approccio dei sistemi perché è un approccio che va a vedere anche quelle che sono le intercorrelazioni tra il sistema muscoloscheletrico ma anche quello fasciale, quello circolare, quello viscerale, circolatorio, scusate, viscerale e così via Based on the principle of interrelationship between structure and function e quindi ci basiamo sui principi per cui il corpo è dato da interrelazioni di funzioni tra gli diversi sistemi e che il corpo è un'unica unità di funzione Come utilizzi l'approccio minimalista nella tua pratica clinica? Un esempio Ok, so if you can give us an example of the way you use the minimalist approach in your clinical practice Yes So in order to illustrate that we'll start by talking about a patient who may be presenting to you with back pain and neck pain Allora per poter rispondere a queste domande iniziamo portando un esempio pratico Immaginiamo una paziente che si presenta con lombalgia o cervicalgia These symptoms may be a little bit more of a chronic nature Questi sintomi potrebbero avere una natura un po' più cronica So the patient doesn't report that there were any specific events or trauma causing the symptoms Il paziente dunque non riporta un evento scatenante particolare o un trauma che ha causato i sintomi But they did seem to develop over time Ma il dolore si è sviluppato nel corso del tempo Magari il paziente riferisce di aver ricevuto già un trattamento sintomatico Quindi un trattamento nell'area lombare e nell'area cervicale Ma questi trattamenti gli hanno dato un sollievo di breve durata Then the minimalist approach may be advantageous for this patient E quindi l'approccio minimalista potrebbe essere vantaggioso per questo tipo di paziente Because by identifying in the body as a total unit of functions the significant dysfunctions Perché andando a valutare tutto il corpo come un'unica unità di funzione E andando a evidenziare quelle che sono le dysfunzioni significative You may be able to identify all the different drivers behind the tissues in the lumbar spine and the cervical spine becoming painful Potresti andare a ritrovare tutti i vari tessuti che stanno portando la regione lombare e quella cervicale ad essere sintomatica So it could be that you're highlighting articular and myofascial dysfunctions in the area of the right ankle and foot Quindi potresti rilevare ad esempio delle dysfunzioni articolari o miofasciali nella zona della piede destro It may be that they have some limitations of hip function on the same side Potrebbero avere delle limitazioni della funzionalità della lanca sullo stesso lato There may be some significant dysfunctions through the thoracolumbar region and the thoracolabdominal plane Potrebbero esserci delle dysfunzioni significative a livello della regione thoracolombare o del piano lombare Extending down through the retroperitoneal fascial continuity Che si estendono lungo la continuità fasciale retroperitoneale Could also be that the patient do have dysfunctions of first and second rib on the left side E il paziente potrebbe anche presentare delle dysfunzioni della prima e seconda costa sul lato sinistro With the connective tissue continuity of Sipson's fascia and the suspensory ligaments Con una continuità fasciale tessutale attraverso la fascia di Sipson e i legamenti sospensori And maybe as a last point some cranial base distortion, dysfunctions and temporomandibular joint problems E per finire magari delle distorsioni a livello della base cranica e dysfunzioni a livello dell'articolazione temporomandibolare Se durante la valutazione osteopatica globale tutte queste regioni, queste aree vengono valutate e denominate significative Then I would use the mechanical links, the neurological links and the fluid links to link them all together into a lesion chain Or pattern dysfunctions Utilizzerò a questo punto tutte le connessioni neurologiche, vascolari, fasciali E per unire queste aree, metterle in relazione per andare a creare una catena disfunzionale And then I would, in a sequential order, treat them in the sequence of importance Dopodiché vado a stabilire un ordine sequenziale andandole a trattare in questo ordine di importanza And hopefully then by improving the functional efficiency of the body E poi si spera che andando a migliorare l'efficacia del corpo E che vuol dire anche una migliore distribuzione delle tensioni e delle compressioni all'interno del corpo durante le attività Potremmo andare a ridurre lo strain e a diminuire la sensibilizzazione che è presente A livello del tessuto doloroso And of course in terms of treatments Per quanto riguarda il trattamento This also requires the osteopath to use a combination of methods Ranging from more structural musculoskeletal techniques To connective tissue or fascial approaches, visceral osteopathy and so forth Questo approccio richiede che l'osteopata sia in grado anche di spaziare In un ampio range di tecniche e approcci Quindi può essere coinvolto sia un approccio più muscolo scheletrico, strutturale, articolare Ma è necessario anche saper approcciare il paziente con tecniche viscerali, fasciali e così via Ed è un modo anche molto divertente di lavorare con il paziente E vedrete che spesso il paziente si ritroverà a dirvi Ma nessuno mi ha mai esaminato in modo così approfondito E spesso dopo il trattamento il paziente è già in grado di vedere Che ci sono state delle modifiche all'interno del suo corpo E quindi già si vede la risposta al nostro trattamento, a ciò che abbiamo fatto Possiamo dunque dire che nell'approccio minimalista l'osteopata diventa lo Sherlock Holmes del corpo E cerca di risolvere il mistero che circonda questo sintomo del paziente Un qualcosa, un'esperienza clinica in particolare sulla gestione delle problematiche nella donna Ok, thank you, thank you That was very, very interesting So we pass to our third question That is if you have any particular experience that you want to share with us In the management of problems in women Yes First of all, if we talk about a woman's health as an area of interest for the osteopath Prima di tutto, se vogliamo parlare della salute della donna come area di interesse per un approccio osteopatico Again, this is an area which is both extremely interesting and at the same time challenging Anche qui questa è un'area che è estremamente interessante ma allo stesso tempo ci porta a delle sfide Perché come osteopati quando incontriamo questa popolazione di pazienti Is that they will very often have multi-system presentations E che molto spesso avranno una presentazione multi-sistemica So as you're doing the case history with the patient Quindi già durante la raccolta anamnestica There will in most cases not only be one symptom But there will be multiple symptoms involving both the musculoskeletal system It can involve the gastrointestinal system It can involve the urogenital system and so forth Molto spesso ci troviamo di fronte a più di un sintomo E questi sintomi vanno a coinvolgere diversi sistemi Quindi può esserci ad esempio un dolore musculoskeletrico Ma anche una problematica a livello gastrointestinale o a livello urogenitale And of course for the patient is it quite frustrating E questo per il paziente è una situazione che porta a frustrazione Perché questi sintomi potrebbero sembrare non correlati tra loro Una delle cose chiave a cui dobbiamo pensare Quando incontriamo questo tipo di paziente È prima di tutto se questi sintomi sono correlati tra di loro E questo ci aiuterà nella gestione della paziente But also for us in order to explain to the patient The mechanisms behind why they have developed these multisystem presentations E poi ci serve anche per riuscire a spiegare al paziente Come mai ha sviluppato questi sintomi Che vanno a comprendere più sistemi E per poterlo fare da osteopati è veramente necessario Che l'osteopata abbia una buona conoscenza della fisiologia e della patofisiologia Per riuscire a capire quelli che sono gli assi che sono presenti dietro Sottostanti a queste presentazioni multisistemiche Attraverso il sistema nervoso autonomo e quindi capire le interazioni somatoviscerali Viscerosomatiche e visceroviscerali Attraverso l'osservazione del paziente Con la lente del modello circolatorio e respiratorio E quindi capire dove i fluidi sono in congestione E dove l'apporto ematico e il drenaggio magari non stanno funzionando bene E ovviamente anche attraverso la componente biomeccanica Per andare a capire quello che è il carico del corpo durante le attività quotidiane E ovviamente quando stiamo prendendo in considerazione questa popolazione di pazienti Non possiamo sottovalutare l'aspetto cognitivo, emotivo, emozionale E parlando del corso che è in programma a Milano I'm going to try to offer a way of systematizing The way you understand the patient and the interrelationship of symptoms Cercherò di rendere sistematico il modo in cui possiamo osservare il paziente E capire le correlazioni tra le diverse aree del paziente As well as proposing some strategic approaches E poi si presenteranno delle strategie per andare ad approcciare Alcune delle presentazioni chiave che di solito si osservano in questa popolazione di paziente E spero che una volta che gli osteopati hanno finito il mio corso Siano in grado non solo di valutare questo tipo di paziente Capirlo e sapere come trattarlo Avere delle strategie per trattare questi pazienti Ma che siano anche in grado di comunicare al paziente ciò che hanno fatto Ma noi come osteopati siamo DO, questo è il nostro titolo Il che vuol dire do something, fai qualcosa Quindi chi verrà al corso avrà un'idea di ciò che potrà fare Con una varietà di presentazioni cliniche Parleremo dunque molto di trattamento E ovviamente questo è un gruppo di pazienti con cui lavorare estremamente affascinante Sono pazienti che sono molto grati Del fatto che l'osteopata abbia la volontà di passare del tempo E utilizzare il suo tempo per riuscire veramente a capire che cosa sta succedendo Ed è una popolazione di pazienti che veramente si presta Alla trattamento osteopatico e alla cura osteopatica Benissimo, grazie mille per tutte queste risposte molto ricche di particolari E anche di passione insomma Thank you, thank you very much for all these answers that you gave We can see that they're also rich in passion And we can see that you're willing to share Yes, I'm almost coming through the screen Sì, qua ti passo attraverso lo schermo But I will come in person in a little over a month Però verrà in persona in Italia in poco più di un mese Esattamente, esattamente Grazie mille Christian davvero per la disponibilità e per tutto Grazie Francesca e vi auguro buona giornata Grazie mille Christian davvero per la disponibilità e 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 per la disponibil Grazie a tutti